Domani sappiamo che è una partita importante, è un campo ostico, difficile, non dimentichiamo che la Lazio insieme alla Juventus è la squadra che è andata più avanti in Europa, è la squadra che poi ha fatto anche tutta la Coppa Italia insieme a noi, quindi si stanno affrontando le due squadre che hanno giocato di più quest'anno. Vediamo e pensiamo alla nostra partita senza guardare gli altri, questa è stata sempre la nostra forza e deve continuare ad esserlo. Antonio dopo la sfida di Coppa Italia con la Lazio Petkovic disse, si sa che c'erano state un po' di discussioni sugli arbitraggi, Petkovic disse che la Juve è un po' nervosa perché non riesce mai a battere la Lazio, volevo sapere se pensi che possa essere la volta buona, se questa è una motivazione in più. Ma c'è sempre la prima volta. Magari gli faccio giocare tutti e quattro domani i centrocampisti, per me non sono stanchi, per me ribadisco il Bayern è stato superiore, poi si possono trovare 300.000 alibi sotto tutti i punti di vista, per me alcuni calciatori non sono stanchi e sono convinto che domani faranno una grandissima partita, poi magari gli faccio giocare domani tutti e quattro i centrocampisti. Tolgo una punta.